Un continuo via vai dalla Sala Azzurra del Comune, un continuo omaggio, quello della comunità di Palagonia a Vincenzo Solano e Mercedes Ibanez. L'arrivo dei feretri è stato accolto tra applausi e lacrime nella Camera Ardente che resterà aperta sino alle 16. Un'ora dopo, ovvero alle 17, nella chiesa di San Giuseppe, il vescovo di Caltagirone, Monsignor Calogero Peri, celebrerà i funerali della coppia. Una cerimonia per la quale le figlie hanno chiesto a politici e giornalisti di non essere presenti. Nel frattempo, anche in queste ore, gli investigatori sono impegnati a ricomporre con precisione i dettagli di quanto avvenuto nell'abitazione di Palagonia. Innanzitutto trova sempre più conferme l'ipotesi che il presunto omicida, ovvero Mamadu Camara, 18 anni, ospite del Cara di Mineo, abbia agito insieme ad altre persone. Sulla scena del delitto ci sarebbe stata infatti almeno un'altra persona. E poi l'arma. Dall'autopsia sono emerse ferite causate forse da un grosso cacciavite e da un atenaglio, una pinza usate per colpire violentemente le due vittime durante la rapina. Secondo una fonte citata dall'agenzia Anza, inoltre dall'autopsia sarebbero emersi diversi indizi che lasciano ipotizzare che la donna abbia potuto subire una violenza sessuale. Serviranno comunque altri esami per averne certezza e ci vorranno delle settimane. La polizia postale di Catania nel frattempo già da oggi inizierà ad analizzare i contenuti audio-video e le immagini contenute nel telefono cellulare di Mamadu Camara. Verranno poi controllati i tabulati telefonici. Il sindaco di Palagonia, Valerio Marletta, nel giorno dei funerali parla di clima di raccoglimento e silenzio nel rispetto del dolore e del lutto della famiglia Solano.